In questa lezione analizziamo l'anatomia di una fattura in formato XML. Ho selezionato due fatture, la prima ho rinominato appositamente XML singolo articolo e la seconda XML più articoli. Andiamo a capire il perché dopo. Queste fatture sono strutturate in XML. XML è un formato, una tecnologia come il JSON, ma diverso. Siccome in Power Automate è molto più semplice lavorare con un JSON piuttosto che con un XML, il nostro processo richiederà dapprima la conversione di questi file in JSON e poi andremo ad applicare tutte le tecniche che abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti. Come puoi notare qui abbiamo una rappresentazione diversa. I valori sono inseriti all'interno dei tag. Ad esempio abbiamo qui IT che è rappresentato all'interno di tag ID paese, ID paese con questo slash di chiusura. Questo è quanto basta, ci fermiamo qui, non ci serve di più. Andremo a prendere prima questi file, andiamo con uno strumento online per vedere un po' come viene fuori la conversione, quali sono le differenze e nella lezione successiva andremo a vedere in Power Automate come simulare un'automazione. Se qui in Visual Studio Code non vedi i tuoi dati formatati in questo modo, ricorri a questa scorciatoia, vado in Google per fartela vedere. Sono sul Mac è Shift, Alt o Opzioni più F. Su Windows è questa. Nel caso in cui dovresti avere una notifica di installare un add-in per la formatazione dell'XML, vai qui e installi questo strumento, XML Tool. È quello che ho installato qui. Diciamo che è facoltativo. Una volta che hai fatto questo, andiamo a prendere questi file, quindi copiamo questo, comando A o ctrl A, ctrl C o comando C per copiare tutto. Questo è XML singolo articolo. Lo andiamo ad inserire all'interno di questo strumento jsonformat.org. Inseriamo l'XML da questa parte, incollo, comando V o ctrl V. Andiamo da questa parte, abbiamo questo pulsante XML to JSON. Questo serve per fare la conversione, ma qui è solo per la nostra analisi, perché in Power Automate ricorreremo alle espressioni, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, per fare questo tipo di conversione. Clicchiamo e questa è la nostra conversione. Quindi il nostro file XML o i nostri dati in XML sono convertiti in formato JSON. Per vedere qui meglio possiamo andare qui a selezionare questo e questo ci fa vedere la visualizzazione ad albero. All'interno di questa visualizzazione ad albero abbiamo un oggetto e all'interno di questo oggetto abbiamo il nodo principale che è fattura elettronica, al cui interno ci sono sei elementi. Andiamo ad espandere, abbiamo un header e qui abbiamo un body e la firma, più altri elementi. Quello che ci interessa qui nello specifico è fattura elettronica body, andiamo ad espandere, e qui ha dati, beni e servizi. In corrispondenza di dati, beni e servizi, che ha due elementi, vediamo dettagliolinee ed è qui all'interno che abbiamo le varie descrizioni degli articoli che compongono il nostro XML fattura. Nota bene questo, abbiamo aperta, chiusa, parentesi, graffe, vuol dire che questo è un oggetto. Quindi quando noi andiamo a convertire un XML in JSON, qualora c'è un singolo articolo, abbiamo qui un oggetto. E questo sarà determinante quando andremo a Power Automate per fare la nostra automazione, perché qui avremo un oggetto. E adesso, quando andremo a prendere il file XML con più articoli, qui avremo qualcosa di diverso. Andiamo in questa pagina vuota, è sempre jsonformate.org, andiamo a prendere l'XML più fatture, comando A, ctrl A, comando C, ctrl C, se sei su Windows, inseriamo come prima, andiamo a fare qui XML to JSON, rappresentiamo la struttura d'albero e qui andiamo a fattura elettronica body, beni e servizi e all'interno di beni e servizi dettagliolinee, abbiamo qui una parentesi quadra e qui una parentesi quadra, vuol dire che questa è un array. Siccome abbiamo più articoli all'interno di questo nodo, viene rappresentato in array, mentre invece qui abbiamo un singolo articolo, viene rappresentato in oggetto. Questa è la parte più importante di questa lezione. Ora che abbiamo visto questa differenza, vediamo quello che andremo a costruire e a sviluppare in Power Automate e poi andremo passo a passo per vedere come implementarlo. E da lì, avendo le basi solide, potrà dare avanti per adattarlo a un tuo processo di automazione.